Una banda di sei uomini incappucciati, armati con spranghe, asce e molotov. Professionisti, fra loro forse ci sono degli stranieri dell'est Europa. Assaltano stamattina alle 11.30 in via della Spiga a Milano il negozio della casa di orologi svizzeri Frank Müller. Spaccano tutte le vetrine, mandano all'ospedale con un'emorragia alla milza l'addetto alla sicurezza e scappano lanciando tre bottiglie incendiarie in strada. Una scoppia davanti a una scuola elementare, di fronte alle vetrine di Moschino. Si è comparso uno alto così, con maschera, che si passa a montagne, che faceva gesti, suoni forti, così. Urlava? Sì, urlava, avevo in una mano molotov, l'ho acceso e l'ho lanciato. Il colpo è quasi una sfida, le istituzioni una beffa. Praticamente alla stessa ora il ministro dell'interno Angelino Alfano presiede in prefettura un vertice sull'ordine pubblico convocato dopo la strage del picconatore ganese al quartiere Niguarda. Il ministro promette la cattura dei banditi. Frank Müller in via della Spiga è già stato rapinato nello stesso modo appena tre mesi fa, il 15 febbraio. Anche quella volta la banda, allora cinque uomini, aveva mazze e molotov. È una strana coincidenza. Sono degli imitatori o come è quasi certo, secondo chi indaga. È lo stesso commando che ripete un colpo fortunato e in questo caso è possibile che lo faccia senza la complicità ad un basista? Il direttore del negozio a febbraio era di riposo. Stamattina è nel retro quando arrivano i banditi. La porta, ripresa da una telecamera di sicurezza, è chiusa. Molto coperto? No, scoperto, hanno suonato, è arrivata la prima persona, poi sono arrivati gli altri cinque. Quindi il primo si è finto cliente, poi si è entrato tutti gli altri. Esatto, l'unica persona molto scoperta. Erano armati? Con delle mazze molto pesanti e una mazza molto grande a forma di incudine. Dura tutto un minuto, chi li sente parlare coglie un accento dell'est. Il direttore li insegue mentre scappano, i banditi tirano le molotov e si dividono. Sentivo uno che urlava bomba, 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 poi ho sentito un botto, ho visto una fiammata fuori. In un giardino alle spalle della questura, dentro un cespuglio ci sono i vestiti di un bandito che si è cambiato. Anche un ascia e un tronco vengono recuperati da Eris. Il bottino è di sicuro milionario.